Va via col suo carico di sale e di grano È uno dei gruppi rock italiani più longevi di sempre ma a dispetto dei suoi 48 anni di età, di una cinquantina di dischi all'attivo e 15 milioni di copie vendute i nomadi hanno ancora un cuore da ragazzini, anzi un cuore vivo Sette mesi dopo l'ultima raccolta di cover Beppe Carletti e compagni, nella formazione consolidatasi 13 anni fa aprono un nuovo capitolo della straordinaria carriera di un'avventura che non si è mai fermata Un nuovo album autoprodotto 8 brani del loro repertorio degli anni 60-70 riarrangiati più due inediti Sonorità ampie, melodie liriche, soprattutto parole d'amore sono gli ingredienti di Tocca mi il cuore, la novità che apre l'album ma nel disco non mancano certo atmosfere folk grinta popolare persino del sano rock and roll Amico che cerchi il tuo paradiso Ho trovato tra questi brani delle cose che non avevo ancora ascoltato quindi è un bacino d'utenza queste canzoni di nomadi che non finiscono mai I nomadi proseguono il loro viaggio che presto compirà mezzo secolo per nulla stanchi degli oltre 100 concerti l'anno e anzi con tanta voglia di restare sul palco solo per lui, il popolo nomade è veramente un popolo nomade, un popolo meraviglioso che solo noi abbiamo siamo orgogliosi di questo però Lorenzo Gaggi, Sky TG24